Ecco qui le green jade ragazzi, sono arrivate le green jade Vediamole bene perché da qui non si capisce bene il colore Ora apriamo un pochino e le vediamo Allora sono abbastanza sincero, mi aspettavo qualcosa di più Ora io non ho mai avuto le green jade però è un verde molto sul giallo E poi c'è qualche tratto blu di qualche caridino Queste sono veramente, ma non sono come me le aspettavo Ecco però non posso giudicare Ora l'importante è che ci sia il gene E magari con le riproduzioni riuscirò a fare un minimo di selezione Però sono in formato, foto, youtube Insomma le verdi sono davvero verdi alcune Ovviamente sono di altissimo grado magari a prezzi esorbitanti Queste non le ho pagate tanto però le alleviamo E vediamo successivamente come vengono i figli Adesso ve le faccio vedere in dettaglio Come vedete ci sono anche dei tratti di blu Ovviamente la caratteristica delle green jade di basso grado È un corpo verdastro e una banda gialla sul dorso Che qui in realtà si vede molto poco Anche se il trasporto può leggermente far sbiadire il colore Mi sembrano comunque delle green di basso grado Non certo come quelle belle green verdi pure Comunque aspetto di metterle in vasca e poi vediamo Ok questa è la vaschetta dedicata per loro Già pronta, già matura, 20 litri E ce le andiamo a mettere ora dopo un breve periodo di adattamento Eccola qui una Però facciamo prima una considerazione Un consiglio che vi do Non giudicate subito le caridine quando le avete appena portate a casa Perché nel periodo del trasporto Anche se di pochi minuti Le caridine possono stressarsi E perdere la colorazione originale Questa colorazione poi verrà recuperata una volta che lo stress è finito E verranno rimesse in vasca Infatti forse anche l'effetto dei riflessi delle piante che sono verdi Però mi sembrano a distanza di qualche ora leggermente più colorate Anche la banda sul dorso gialla Che rappresenta proprio le green jade È più evidenziata in questo periodo Questa banda dorsale è caratteristica di molte tipologie di caridine Prendete ad esempio le yellow neon Oppure anche alcune red possono avere una banda chiara sul dorso Queste le green jade sono caratterizzate da una banda sul giallastro Quindi corpo verde e banda giallastra Quindi a tutti gli effetti Queste sono di fatto delle green jade Una green jade di alto grado però avrebbe un verde molto più denso e profondo Come vedete qui ci sono soltanto invece dei puntini Che colorano nemmeno per la metà il corpo della caridina Quindi sono di basso grado Però sono belle comunque A me personalmente non dispiacciono E sinceramente non sono del tutto deluso Quello che è strano è come un rosso così intenso Costi come queste verdi di basso grado Ma anche lo stesso non solo per queste rosse Anche una blue dream molto ben colorata Con un blu molto ben fissato Costi come una green jade di basso grado Le green jade vere e quelle verdi costano veramente il doppio il triplo delle caridine Normali di qualsiasi colorazione Sono probabilmente quelle che costano di più Ok queste sono le ultime immagini di questo video A conferma di tutto quello che vi ho detto Ma vi ripeto questo è soltanto un giudizio personale Se vi devo consigliare come un amico Quale colorazione scegliere Sicuramente la green jade non è tra quelle preferite Vi consiglierei un giallo, un rosso oppure un blu Però le caridine sono belle qui tranquille Si riprodurranno e vediamo che figli usciranno Magari con un po' di selezione Riuscirò a raggiungere un grado decente Spero che questo video vi sia stato utile Quanto meno di trattenimento E noi ci vediamo come sempre con nuovi video E nuovi aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti